Hallo zusammen, io sono Claudia e nel 2016 mi sono laureata nel corso di scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, scegliendo di approfondire lo studio della lingua inglese e della lingua tedesca. Oggi lavoro come junior product manager presso Arzana, in particolare mi occupo dello sviluppo di nuovi giocattoli chicco. Vi chiederete quando uso il tedesco durante la mia attività lavorativa? Beh, lo uso ogni volta che arriva un nuovo giocattolo parlante che parla tedesco e fortunatamente riesco a capire tutto quello che dice. Perché vi consiglio di studiare lingue? Come mi ha fatto notare una volta il mio responsabile, chi studia lingue ha un approccio molto più curioso e una mentalità aperta che consente di andare oltre gli schemi imposti. Sono molto convinta che ogni lingua con le sue caratteristiche morfologiche, sintattiche, grammaticali sia in grado di insegnarci qualcosa. Nel caso della lingua tedesca sono quasi totalmente certa che questo qualcosa sia l'ordine, la precisione e la logica nel collegare gli elementi all'interno di una stessa frase. Non mi resta altro che farvi un grande in bocca al lupo e Feel Gluck!